Vicini terribili, odori nauseanti, rumori nel cuore della notte? Ti sei mai chiesto? Ma quanto bello sarebbe se avessi una casa indipendente? Se poi mescolata a questa indipendenza ci metti un ambiente pulito, vicino al verde, allora tieniti forte perché ora scoprirai cosa noi dell'Agenzia Ti Vendo Casa abbiamo in serbo per te. Ciao, io sono Marco, marketing immobiliare che ti vende casa ai migliori prezzi di mercato senza perdere di tempo. Superato questa entrata indipendente entriamo in questa casa indipendente di ben 170 metri quadri calpestabili costruita all'incirca negli anni 80. Primo piano troviamo praticamente tutta l'abitazione totalmente abitabile. Come vedete appena entrati sulla sinistra abbiamo il salotto con balcone. In parallelo abbiamo la cucina abitabile. Come vedete che divide la zona giorno dalla zona notte è stato possibile installare una stufa che può riscaldare praticamente tutta la casa. Subito dopo abbiamo una camera da letto. Seconda camera matrimoniale. Un balcone che dà visibilità sul giardino e sul quartiere. E infine una terza camera matrimoniale di generose dimensioni e grandi altezze che potete sfruttare per fare tutti i lavori di ristrutturazione, ad esempio l'impianto a pavimento. Tornati al piano terra troviamo questa lavanderia barra cucina che oggi potremo anche ristrutturare e sfruttarla come un ulteriore appartamento. E subito a fianco un garage grande abbastanza da contenere tre posti auto. Qui subito sulla destra una cantina. E una seconda lavanderia o un secondo bagno con doccia. Nella parte retro della casa troviamo questo immenso, possiamo chiamarlo giardino, dove i vostri figli potranno giocare in tranquillità, in serenità senza finire in strada, pallone, calcio. E infine abbiamo un magazzino o un ulteriore garage o una zona lavori, potete usarlo anche come laboratorio. Ci troviamo esattamente in via Aroldi a Costa Lunga in un ambiente tranquillo e pulito, perfetto per andare a correre o fare passeggiate nel verde. Sei vicinissimo alla pizzeria più famosa di Costa Lunga e al supermercato. Qui sono già stati fatti dei lavori di ristrutturazione per un valore di circa 100.000 euro. Infatti è stato installato l'impianto fotovoltaico e è stata rifatta completamente la facciata davanti della casa. Gli unici lavori che dovrai sostenere per far tua questa casa saranno i seramenti, magari il pavimento e gli impianti elettrico e gas. Bene, abbiamo finito il tour. Questa casa è perfetta per chi? Sicuramente perfetta per chi necessita di grandi spazi, soprattutto magari anche per una famiglia di contadini, per parcheggiare gli attrezzi agricoli, oppure per chi ha una dita o ha bisogno di un laboratorio. Se vuoi saperne di più, soprattutto sul prezzo della casa, clicca il link in descrizione qui sotto. Da Marco Market Rimobiliare, questo è tutto. Ci vediamo a Rogito. Ciao!